oggi anche il pane in casa facciamo è farina acqua lievito e un po di sale tutto lì allora questo è uno dei due pani che abbiamo fatto ho dimenticato di dirvi soltanto che nella farina abbiamo aggiunto anche un po d'olio di olio d'oliva ecco era una dimenticanza comunque sono venuti due ottimi pani gli ingredienti sono occhio farina acqua acqua un po tiepida poi ci va il lievito un pizzico di sale e l'olio grazie a tutti